Quello che sorprende è la capacità di guardare oltre, nonostante la vostra giovane età. Avete giocato una partita di grande personalità, come avevate fatto del resto anche a Roma contro la Lazio. Ma a questo punto si può dire che vi manca un po' di esperienza? Secondo me non è quella che ci manca. Siamo tanti ragazzi giovani, però abbiamo abbastanza esperienza da gestire certi tipi di partite. Secondo me ci è mancato la cattiveria nell'ultimo metà, la cattiveria sotto porta. Anch'io potevo fare meglio in determinate situazioni, però penso che nel complessivo la gara sia stata disputata bene. Ti chiedo come si va a casa oggi, perché è un po' difficile raccontare questa partita. 60 minuti di dominio contro il Napoli-Capolista, però la perdiamo per un episodio e poi mi allaccio alla tua fase finale. Come si migliora quella cattiveria in fase offensiva negli ultimi 16 metri? Si va a casa con tanto dispiacere e rammarico, però penso che da domani si debba pensare alla prossima partita e pensare positivo. Perché alla fine, anche se veniamo da due sconfitte, veniamo da due buonissime prestazioni, secondo me. Per quanto riguarda la cattiveria sotto porta, si migliora durante la settimana, lavorando anche sull'aspetto mentale. Ti chiedo in cosa, secondo te, la squadra è cresciuta di più nel corso del tempo? Perché nonostante le ultime due sconfitte, poi dobbiamo anche considerare che sono avvenute contro squadre che lottano per obiettivi molto diversi. Ti chiedo in cosa ti vedi che la squadra è appunto cresciuta, cosa ti sembra che sia migliorato proprio dall'inizio della stagione? Io penso che siamo un gruppo molto unito, veramente di bravissimi ragazzi, che in campo cerchiamo di aiutarci, di aiutare il compagno e di fare il massimo per questa maglia. Secondo me la cosa che ci contraddistingue è non voler perdere, non voler prendere gol e poi secondo me dobbiamo ancora migliorare quando abbiamo la palla, tenere un po' di più il possesso e non andare certe volte fuori giri. Buonasera, ciao. Come stai intanto? Interfortunio, stai bene? Sì, 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 mi sono ripreso, grazie. Questa è la cosa principale. Per il resto, indipendentemente, praticamente avete le ultime squadre Lazio e Napoli, quindi sono praticamente di un'altra categoria rispetto all'Empoli, quindi potrebbe essere tutto. Ma qual è stata la difficoltà più, io l'ho chiesto anche a Gemmi, la difficoltà che voi avete incontrato, perché avete fatto un primo tempo, bellissimo, avete continuato, però ecco, qual è la difficoltà più lampante che voi avete riscontrato incontrando queste due squadre di prima fascia? Ma io penso che fare tutta la partita come il primo tempo di oggi sia quasi impossibile. è normale che quando giochi contro queste squadre l'errore deve essere ridotto al minimo, perché poi appunto un episodio ha dato rigore e lì è cambiata la partita. E penso che, avendo fatto quel primo tempo lì, dovevamo fare gol per poi cercare di tenere risultato nel secondo tempo. Grazie. Ciao, ti chiedo come giudichi la tua personale prestazione di oggi? Secondo me, secondo me ho fatto una buona partita, ma potevo far meglio in determinate situazioni sottoporta, che è un aspetto che devo migliorare e sto cercando di lavorarci. Ciao Jacopo, quanto può migliorare l'intesa tra te, Colombo ed Esposito? Sicuramente può migliorare, può migliorare sempre. Siamo tutti ragazzi giovani, ci conoscevamo già e penso che giocando insieme l'intesa aumenti giornata dopo giornata. Ciao, Daniero di Atuttonapoli. Nonostante tu eri infortunato e è apparso una gara estremamente simile a Empoli-Juventus, terminata però 0-0, credi che rispetto a quella gara c'è stato l'episodio perché la Juve ebbe occasioni, però non riuscì a sfruttarle? Quindi quali sono le differenze rispetto a quella gara? E cosa vi manca per riuscire a strappare un risultato positivo contro una Big? Risultati positivi contro la Big abbiamo dimostrato che possiamo raggiungerli e possiamo ottenerli. Come ho già detto prima, quello che ci è mancato oggi è stato il finalizzare le occasioni che abbiamo creato e quindi penso sia stato questo il problema di oggi. L'avversario ha giocato contro la capolista e ha giocato contro la capolista. Credi che il Napoli se la può giocare fino alla fine? Certo, sicuramente è una delle favorite. Non so assolutamente come andrà a finire, però è sicuramente una delle squadre più forti del campionato.